Abbiamo da poco cominciato a parlare del giusnaturalismo, una corrente filosofica molto importante nell'abito soprattutto del diritto che si sviluppò nel 600 e l'altra volta nel primo episodio diciamo di questa miniserie dedicata al giusnaturalismo abbiamo presentato gli antecedenti, gli anticipatori, quei filosofi cioè che magari non si possono definire giusnaturalisti ma hanno posto le basi di quello che poi sarebbe divenuto questo importante movimento. Abbiamo parlato di Tommaso Moro, abbiamo parlato perfino di Jean Baudin, insomma abbiamo fatto una veloce panoramica. Oggi però vediamo i primi veri direi filosofi giusnaturalisti, parleremo di Grozio che è considerato il più importante forse, parleremo di Althusius, parleremo dell'italiano Gentili, poco noto ma insomma che vale la pena citare quantomeno. Faremo una cosa veloce, non staremo troppo su questi pensatori, ma tenterò di porvi le basi perché poi il pensiero di questi primi filosofi in giro per l'Europa avrebbe influenzato Hobbes, avrebbe influenzato Locke, avrebbe influenzato Rousseau, cioè i più importanti filosofi giusnaturalisti veri e propri. Andiamo a cominciare. Un po' di caffè nella tazza, andiamo a cominciare che replica quello che vi ho appena detto. Io mi chiamo Romano Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori, insegno al liceo scientifico di Lovigo, già da ormai parecchi anni e su questo canale da un anno e qualche settimana sto realizzando delle video spiegazioni di storia, di filosofia, anche a volte di educazione civica, a volte anche legate all'attualità, che seguono più o meno il programma che svolgo anche a scuola. Quindi se avete curiosità, se vi serve per studiare, se vi serve per approfondire, nel canale che potete esplorare anche andando in descrizione e cliccando sulle varie playlist trovate davvero tanto materiale. Oggi, come vi dicevo, non dimenticandoci che c'è anche Batman sempre lì a guardarci, oggi come dicevo parliamo di filosofia del giusnaturalismo in senso un po' generale, un po' generico anche se volete, perché mi interessa introdurre questa corrente e poi vi rimando ovviamente ai video dedicati ai grandi filosofi giusnaturalisti che vi ho già citato, cioè Loc, Ops, Russo, in descrizione vi metto il link per ognuno di essi. Ma oggi concludiamo questa panoramica. Cos'è il giusnaturalismo? L'abbiamo già detto l'altra volta, in descrizione trovate anche il video dell'altra volta. Giusnaturalismo deriva dalla parola ius naturale, dall'espressione latina ius naturale, vuol dire diritto naturale, è quella corrente filosofica che ritiene che tutti gli uomini siano dotati per natura solo per il fatto di essere uomini di alcuni diritti. Diritti naturali vuol dire questo, vuol dire che prima ancora che lo Stato nasca, prima ancora che lo Stato ci conceda dei diritti, noi siamo portatori di alcuni diritti, perché siamo esseri umani e l'essere umano ovunque esso sia, ovunque egli nasca, è portatore di diritti. Questo pensano i filosofi giusnaturalisti. Occhio che, attenzione che questa concezione è ancora viva, oggi no? Oggi certo i nostri Stati moderni ci concedono dei diritti, le Costituzioni ci tutelano ed esprimono i nostri diritti, ma ci sono dei diritti che sono ritenuti anche superiori addirittura alle carte, alle le leggi emanate dai singoli Stati. Diritti naturali, diritti che nessuno Stato può negare e nessuno Stato può limitare in qualche misura, almeno questo pensiamo noi nel pensiero occidentale. Ecco, il giusnaturalismo quindi è una corrente filosofica che ha avuto un lascito enorme nella storia del diritto e nella storia del pensiero politico ovviamente. Solo che, al di là dei diritti naturali, i giusnaturalisti utilizzano anche delle particolari tecniche per elencare, trovare e difendere questi diritti naturali. In particolare la tecnica, il modus operandi, diciamo così, più celebre è quello che fa uso del concetto di Stato naturale o di Stato di natura. Cosa si intende con Stato di natura, Stato naturale? Loro, intendo i filosofici giusnaturalisti, provano a immaginare quale poteva essere la situazione degli uomini prima della nascita dello Stato. Noi sappiamo che oggi viviamo all'interno di uno Stato che appunto ci dà certi diritti, ce ne concerne alcuni, magari ce ne nega altri, su cui chiediamo maggior tutela eccetera. Ma proviamo a immaginare come era o come avrebbe potuto essere la vita prima della nascita dello Stato, cioè prima che esistesse un Parlamento, un Governo, una Polizia, delle leggi scritte, come doveva essere la vita degli uomini prima che le organizzazioni statali che noi oggi conosciamo nascessero. Chiaramente questo è uno sforzo di immaginazione, nel senso che noi possiamo immaginare come gli uomini potevano essere prima dello Stato, cioè ad esempio gli uomini primitivi, gli uomini, i selvaggi, prima della civiltà. Ma non abbiamo fonti storiche che ci attestino che le cose siano andate effettivamente come noi le immaginiamo. Infatti quello dei filosofi, l'obiettivo dei filosofi, non è un obiettivo storico, ma è un obiettivo filosofico, cioè questi filosofi giusnaturalisti che provano, ripeto, ad immaginare uno Stato di Natura, non hanno la pretesa di dire le cose sono andate effettivamente così, effettivamente le comunità primitive vivevano in questa maniera. Non importa nulla a loro di trovare la verità storica, non sono storici. A loro interesse è trovare la verità filosofica, cioè dicono, sostanzialmente tutti dicono questo. Proviamo a immaginare. Al di là del fatto che poi le cose siano andate effettivamente così, ma proviamo a immaginare come dovevano essere le cose e cerchiamo, immaginando questa realtà, di trarre delle conclusioni. Perché questo gioco di immaginazione, questo sforzo di immaginazione non è fine a se stesso. Serve a fondare meglio lo Stato. Cioè loro dicono, seguitemi questo ragionamento perché è molto importante, loro dicono, proviamo a immaginare come vivevano gli uomini prima che le leggi gli dicessero come vivere. Proviamo a immaginarlo. Troveremo che magari tra questi uomini c'erano comunque delle regole, dei principi non scritti da nessuna parte, ma a cui gli uomini si attenevano, che gli uomini rispettavano principi appunto naturali, principi non stabiliti dalla legge, ma che gli uomini rispettavano per istinto, per natura, perché li ritenevano giusti indipendentemente dalle leggi. Una volta che avremmo trovato principi di tal fatta, principi di tal genere, allora sapremo che quelli sono i principi di natura, sono le leggi naturali, i diritti naturali. E allora sapremo che quei diritti naturali non dipendono dallo Stato, ma vengono prima, sono antecedenti allo Stato, sono più importanti dello Stato. E quindi sapremo che lo Stato non può metterli in discussione, capite? Questo sforzo di immaginazione serve a trovare ciò che viene prima dello Stato, a individuare ciò che viene prima dello Stato e di conseguenza anche a limitare i poteri dello Stato. Perché una volta che io ad esempio mi rendo conto che il diritto alla vita è un diritto naturale, è chiaro che poi nessuno Stato può togliermi questo diritto alla vita, quindi il potere dello Stato finisce per essere limitato dai miei diritti naturali. Lo Stato di natura serve a trovare i limiti dello Stato e di fatto anche a rifondare lo Stato su basi più solide. Noi oggi crediamo che lo Stato abbia tutti i diritti, ebbene non li ha. Non li ha, basta pensarsi un attimo, basta immaginare come doveva essere la vita nell'età primitiva, nello Stato di natura, per rendersi conto che lo Stato ha dei poteri in qualche modo limitati. Quindi lo Stato di natura diventa il paradigma con cui tutti si devono confrontare, con cui tutti devono fare i conti. Tutti i filosofi giustnaturalisti, soprattutto quelli maturi, lo vedremo con Grozio, lo vedremo con, abbiamo visto in altri video con Locke, con Rousseau, eccetera, fanno i conti con questo Stato di natura. Perché lì si vede la vera natura della società, la vera natura di ciò che porta alla nascita dello Stato. Il primo a parlare di Stato di natura in maniera esplicita, in maniera chiara, è Ugo Grozio, un pensatore olandese che poi avrà una grande influenza su Ops, Locke e compagnia bella. Ma in realtà oggi voglio parlare anche di Grozio, ma prima di lui voglio parlare di altri due pensatori che, diciamo, sono giustnaturalisti, direi di sì, anche se la critica a volte è discorda, nel senso che forse sono anche loro anticipatori, ma se lo sono, lo sono davvero di poco, nel senso che vivono in età molto vicina a quella di Grozio, arrivano a conclusioni per certi versi simili a quelle di Grozio, quindi possiamo metterli già tra i giustnaturalisti, a mio avviso. Questi pensatori che tratterei brevemente prima di Grozio sono Alberico Gentili, un italiano, anche se emigrato in Inghilterra, e Ioannes Altusius, un tedesco. Quindi di questi tre vi parlerò, ripeto, Gentili, italiano barra inglese perché vivrà gran parte della sua vita in Inghilterra, Altusius, tedesco, calvinista tra l'altro, Grozio, olandese, anche seppure lui si trasferisce, si sposta, viaggia parecchio durante la sua vita. Tutti e tre questi pensatori vivono sostanzialmente all'inizio del Seicento. Il più vecchio è Gentili, che nasce nel 1552, muore nel 1608, quindi proprio i primi anni del Seicento, ma Altusius e Grozio sono quasi coetanei, vivono proprio nella stessa fase. Altusius nasce nel 563, muore nel 1638, Grozio nasce nel 1583, muore nel 1645, quindi prima metà del Seicento. Gentili inizio, gli altri due però. Partiamo da questo, Alberico Gentili, personaggio che non viene quasi mai citato, non lo trovate, nelle libidità sui superiori io non l'ho mai trovato onestamente, se non proprio appena appena menzionato. È difficile trovarlo anche in altri libri, però secondo me vale la pena di soffermarsi un attimo su di lui, anche perché, poverino, è italiano, una volta che abbiamo qualche filosofo italiano legno di nota, vale la pena di citarlo. È stato in effetti dimenticato a lungo dalla critica, è stato rivalutato solo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, soprattutto nel mondo anglosassone, quindi in Italia è anche relativamente noto, però ha posto alcune basi importanti. Intanto è di origine marchigiana, lui era marchigiano, dirlo italiano forse è anche prematuro, perché vive dal Cinquecento e Seicento, quando l'Italia certo non esisteva, non era unita. Comunque è marchigiano, nasce in un paesino delle Marche, oggi in provincia di Macerata, ma passa anche alcuni anni nella sua vita a Rascoli Piceno, naviga in quelle zone lì, si laurea a Perugia, ma a un certo punto ancora abbastanza giovane, è costretto a lasciare l'Italia insieme al padre, insieme a un fratello, perché il padre, che è un nobile locale, teme di essere accusato di eresia. Tenete conto che siamo alla fine del Cinquecento, quindi in piena epoca controriformistica, in quella fase in cui la Chiesa Cattolica stessa stava iniziando a dare un giro di vite rispetto anche al pensiero alternativo, a chiunque, al libero pensiero, diciamo, a chiunque la pensasse in maniera anche solo levemente diversa dalla Chiesa Cattolica, perché d'altronde è il periodo in cui si diffonde il protestantesimo e quindi stanno per sorgere guerre di religioni e persecuzioni e via andando. Tant'è vero che gentili padre e figli si trasferiscono in Germania inizialmente, proprio in città anche dove si è diffuso il luteranesimo, ma poi Alberico, proprio questo personaggio di cui parliamo noi oggi, si trasferisce definitivamente in Inghilterra. Diventerà professore a Oxford per molti anni, diventerà anche consigliere della regina, siamo nell'epoca elisabettiana, cioè il regno di Elisabetta I ed effettivamente avrà un ruolo di primissimo piano nell'università e nel mondo accademico inglese del tempo, occuparmi anche di questioni politiche molto importanti, insomma un personaggio di primissimo piano. Scrive anche alcune opere di carattere giuridico-filosofico e soprattutto è importante il suo studio del diritto di guerra. Perché proprio studiando la guerra, studiando le regole della guerra, Gentili introduce alcune categorie, alcuni elementi molto interessanti, tra l'altro ispirandosi in parte anche al diritto latino. Uno degli aspetti più importanti di Gentili è il fatto di essere riuscito a immettere anche nel diritto anglosassone alcuni elementi di diritto latino e quindi creare un sistema misto che ebbe molta fortuna. Cosa diceva della guerra? Diceva sostanzialmente che la guerra, secondo Gentili, intanto è contraria al diritto naturale. E già qui siamo davanti a un discorso modernissimo. La guerra, soprattutto la guerra offensiva, la guerra in cui si attacca, è qualcosa di innaturale e quindi contraria ad ogni forma di diritto naturale. Tant'è vero che l'unica guerra giusta secondo Gentili è la guerra difensiva. è la guerra in cui ci si difende dall'attacco di qualcun altro. Ma tutte le guerre offensive, anche le guerre religiose che si stavano iniziando a rifondere in maniera molto pesante in Europa al tempo, sono tutte guerre ingiuste secondo Gentili. È un discorso estremamente moderno, guardate bene, perché nel diritto dell'epoca, ma anche nella filosofia dell'epoca di stampo di origine medievale, per lo più, la guerra religiosa era considerata una guerra giusta, perché quando si andava a difendere la propria religione davanti all'infedele, davanti all'eretico, la guerra era giusta. Anche la Chiesa la definiva una guerra giusta. Gentili è tra i primissimi, forse il primo, in maniera chiara, a definire invece ingiusta la guerra offensiva, la guerra in cui si tenta di soggiogare l'altro e di usare la forza contro l'altro. Solo la guerra difensiva è una guerra giusta, cosa che in fondo è oggi recepita anche nella nostra Costituzione, perché l'Italia ripudia la guerra, come sapete, come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi l'unica guerra che l'Italia ritiene, a rigore di Costituzione, giusta e valida, è la guerra difensiva. Quindi Gentili sicuramente a fine Cinquecento ha un'influenza molto, molto importante. Inoltre, sempre studiando la guerra, Gentili arriva a dire anche che la guerra sia uno stato eccezionale, è uno stato particolare, ma questo stato eccezionale non può, ripeto, non può ledere i diritti naturali degli individui. Il che vuol dire che i cittadini, anche i combattenti, anche i soldati che vanno in guerra, certo in guerra magari ci sono regole diverse dallo stato di pace, il diritto di guerra è diverso dal diritto pubblico tradizionale nei momenti di pace, ma ci sono dei diritti naturali anche lì. Lo stato di guerra non toglie i diritti naturali, pertanto, ad esempio, i combattenti hanno alcuni diritti, quando vengono catturati hanno alcuni diritti, quando vengono feriti hanno alcuni diritti che non possono essere loro tolti. Pertanto, ad esempio, se io faccio parte di un esercito e catturo un nemico, questo nemico non posso gestirlo come voglio, non posso togliergli la vita a mio piacimento, non posso torturarlo, non posso farne ciò che voglio, perché anche lui, pur essendo prigioniero di guerra, è portatore di diritti, alcuni diritti, magari non tantissimi, ma alcuni diritti sì, perché sono diritti naturali, diritti che competono all'uomo in quanto uomo. Come vedete, siamo già nell'ambito del giusnaturalismo, anche se Gentili non parla di stato di natura, ma parla di diritti naturali, anche se li limita magari solo alla situazione della guerra, però parla di diritti naturali, con un discorso davvero, davvero modernissimo, che oggi è ancora attuale, ovviamente. È chiaro che, parlando di diritto di guerra, di stato di guerra, Gentili poi è considerato anche uno dei padri del diritto internazionale, perché cercando di dirimere le questioni tra gli stati, cercando di dare delle regole per le guerre, Gentili introduce una nuova categoria del pensiero, che non era così studiata, così ampia, autonoma soprattutto, che quella del diritto internazionale. Il secondo della lista, il secondo pensatore della lista che volevo presentarvi è Ioannes Altusius, tedesco calvinista, ve l'ho già detto, che è considerato il padre, intanto del concetto di sovranità popolare in età moderna, che verrà poi ripreso da Rousseau, e in descrizione trovate il link se volete approfondire, ma anche il padre del cosiddetto pensiero federalista, cioè un pensatore, anche questo, magari un po' trascurato a volte, ma è in realtà molto, molto interessante, perché anticipa temi che poi altri filosofi esploreranno, magari in maniera più diffusa, però lui è il primo a sostenerli. Cosa dice? Intanto Altusius sostiene che gli uomini sono naturalmente succevoli, Secondo lui gli uomini nascono, sono stati creati da Dio come esseri socievoli, cioè portati a stare in società, a riunirsi e a formare gruppi sociali. Certo è vero che dice il primo gruppo sociale più elementare è la famiglia, o meglio l'unione di uomo e donna, derivante dalla diversità dei generi, e poi via via però gli uomini tendono a creare gruppi sociali sempre più ampi, dalla famiglia si passa alla famiglia allargata, potremmo dire, e poi al gruppo sociale, al gruppo del villaggio, e poi della regione, e poi dello Stato. Quindi gruppi sociali sempre più ampi, a cui l'uomo è naturalmente teso ad aderire, l'uomo è spinto ad aderire perché è la sua natura quella di stare insieme agli altri. Quindi c'è una naturale socievolezza che porta alla formazione di gruppi, gruppi che sono però sempre determinati da patti, cioè questa unione degli uomini in gruppi via via sempre più ampi, non è un'unione così casuale direi, ma è un'unione che viene sancita proprio da patti, patti che possono essere a volte proprio espliciti, cioè ci si mette proprio d'accordo, si firma un patto a voce, a speriscritto, eccetera, pensate alle società, che so, mercantili, cioè società mercantile, due persone creano una società con un patto vero e proprio, un contratto che viene scritto, oppure una stretta di mano che è comunque un patto. Oppure possono essere anche patti impliciti, patti taciti. Ad esempio io posso formare un gruppo sociale con gli abitanti della mia via, ovviamente ci mettiamo insieme, discutiamo insieme per ottenere qualcosa dal comune, che so, che ci riasfaltino la strada. In quel caso non abbiamo firmato nessun patto esplicito, non è che ci siamo tutti accordati, stringendoci la mano e dicendo fondiamo il gruppo di quelli che abitano in questa via, no. Però c'è un patto implicito, c'è un patto tacito, è come se l'avessimo fatto, perché agiamo costituendo un gruppo, quindi rispettandoci a vicenda, cercando di avere una voce sola insieme nei rapporti col comune, capite? Ci sono sempre patti, anche all'interno di una classe, visto che voi che state ascoltando forse fate parte di una classe. In una classe non è che i ragazzi che fanno parte di una classe si mettono giù e scrivono un contratto, un patto vero e proprio, però c'è un patto implicito tra di loro, se le cose vanno bene. Un patto implicito che li porta ad agire come gruppo e relazionarsi con i professori, con la scuola, eccetera, come un gruppo coeso, il più possibile coeso. Ecco, secondo Altusius, tutti i gruppi sociali che nascono spontaneamente sono tenuti insieme da dei patti, patti che, ripeto, a volte sono espliciti, a volte sono impliciti o taciti, cioè non dichiarati, ma ci sono lo stesso. Benissimo. Questi patti sono molto importanti perché questi patti sanciscono anche, implicitamente o esplicitamente, che la sovranità sta nel gruppo. Ad esempio, se io creo una società che si vuole regolare, creo insieme agli altri, ovviamente, non solo, ma insieme agli altri miei concittadini nella società, che vuole far da sé, è chiaro che la sovranità, cioè il potere di gestire questa società, sta nel gruppo, risiede nel gruppo. È una sovranità che possiamo già definire popolare. Il potere è del gruppo, è della società, è del popolo. Può lasci però che il popolo, effettivamente, a un certo punto decida, per motivi di convenienza, organizzativi anche, di affidare il potere a un'altra persona. Mettiamo che io, appunto, mi metto d'accordo con gli abitanti della mia via di chiedere al comune qualcosa. Creiamo un piccolo gruppo sociale, la sovranità di questo gruppo sociale, cioè il potere, risiede in ognuno di noi, però vogliamo nominare un portavoce, perché in comune non possiamo andare tutti e 70, che abitiamo in questa via. Quindi nominiamo un portavoce, che si relazioni col comune, invece nostra, a nome nostro. Facciamo le nostre lezioni, oppure anche senza fare le lezioni, diciamo, il tizio che abita al civico 17 è bravo a parlare, ma andiamo lui. Ora, in questo caso, quella persona che viene nominata come leader del nostro gruppo, certo è il leader, certo è il portavoce, ma non detiene la sovranità. La sovranità rimane nel popolo, cioè rimane negli abitanti di questa via, secondo Altusius. Quella persona che va a fare la portavoce è, per Altusius, un portavoce, cioè meglio ancora è un magistrato, a cui viene dato un incarico, ma un magistrato che dipende sempre dalla sovranità popolare. Questo avviene anche nello Stato, secondo Altusius. Quando noi firmiamo un contratto, implicito o esplicito che sia, e abbiamo origine allo Stato, la sovranità non viene dislocata lì fuori del popolo, non viene buttata fuori, non viene data al sovrano. La sovranità rimane nel popolo, che magari può anche avere un sovrano, può esserci un sovrano, ma questo sovrano è di fatto un magistrato, cioè è un incaricato del popolo, è un funzionario a cui il popolo delega il potere, ma in maniera parziale, capite? Questo sovrano poi chiaramente è tenuto a fare le leggi, è chiamato a governare, come il mio rappresentante della via è chiamato a andare in comune e a portare avanti le nostre istanze, ma il sovrano non detiene il potere. Il potere in realtà lo detiene il popolo, la sovranità rimane nel popolo. Il sovrano è un suo rappresentante, in un certo senso, è un suo delegato, è un magistrato che esercita il potere a nome del popolo. Ma capite, non detiene un vero e profondo potere, quindi deve sempre relazionarsi col popolo. Questo che conseguenze ha delle conseguenze molto importanti per Attusius. La principale è che il sovrano può e deve emanare delle leggi, ovviamente, ma queste leggi non devono mai entrare in contrasto col diritto naturale. Il sovrano ha ricevuto il potere, deve esercitarlo, questo potere, ovviamente, nei limiti, ma appunto nei limiti del diritto naturale. Cioè, ad esempio, non può fare leggi arbitrarie, non può fare leggi in cui dice io violo il diritto alla vita dei cittadini, non può. Come, ritorniamo al nostro esempio del rappresentante della via. Il rappresentante della via può andare a parlamentare col co-sindaco per ottenere l'asfalto, ma non può decidere a nome nostro delle cose che non abbiamo discusso prima, non può decidere, ad esempio, col sindaco che il sindaco ci tolga una casa, non può decidere di espropriare la casa a uno di quelli che abitano nella via, perché non ha questo potere, perché si sta prendendo più poteri di quelli che gli abbiamo affidato, perché non ha il potere di andare contro il diritto naturale, che è superiore a qualsiasi delega. Capite? Quindi, il sovrano può fare leggi, ma queste leggi devono essere sempre in accordo col diritto naturale, in accordo, direi anche, con la sovranità popolare. Quando questo non avviene, dice Attusius, e lo dice in maniera molto chiara, il popolo ha il diritto di resistere al sovrano e anche di ribellarsi al sovrano. Quando il sovrano va oltre i suoi limiti, disattende al suo compito, il popolo, che è il vero e unico sovrano, ha il diritto di cacciarlo. E' un discorso, anche questo, molto moderno, che ritroveremo molto simile in Locke e in Rousseau, quello della resistenza al sovrano è un discorso che farà Locke, della sovranità popolare è un discorso che farà Rousseau, ma che già viene anticipato in Attusius, sicuramente in Attusius qualche decennio prima, parecchi decenni prima, anche perché Attusius appunto opera nella prima metà del Seicento, Locke arriverà a fine Seicento, Rousseau addirittura nel Settecento. Ecco, Attusius anticipa temi veramente molto importanti. Arriviamo dunque a Ugo Grozio, pensatore olandese, che tradizionalmente è considerato il padre del giusnaturalismo, il primo vero filosofo giusnaturalista. Questo già nel Settecento lo si identificava così. Poi, come abbiamo visto, sì, Grozio è sicuramente un filosofo molto, molto importante, però Attusius alcune cose le aveva dette pochi anni prima, Gentili anche lui, insomma, viene un pochino prima e quindi identificare Grozio come il padre assoluto di questa corrente forse oggi è eccessivo, però, insomma, sappiate che storicamente è considerato il primo big, il primo grande nome della lista. L'opera principale di Grozio in cui si occupa di diritto, in cui si occupa di, appunto, anche diritto naturale, è un'opera del 1625, si intitola Dei jure belli ac pacis, ve lo scrivo in latino, vuol dire sul diritto di guerra e di pace. È un'opera in cui, appunto, riprende alcuni spunti che già altri filosofi avevano posto in campo. Grozio dice che, anche secondo lui, gli uomini nascono come naturalmente socievoli, naturalmente portati a unirsi in società. Quindi, nello stato di natura, Grozio ne parla in maniera esplicita, l'uomo viveva insieme agli altri uomini, viveva in società, viveva in comunità. Comunità che nascevano in maniera abbastanza spontanea e in maniera abbastanza pacifica, perché l'uomo, appunto, in quanto naturalmente socievole, era portato a vivere in maniera pacifica con gli altri, a vivere in maniera corretta, a rispettare gli altri. Era una situazione abbastanza idilliaca all'inizio, quella dello stato di natura, secondo Grozio, perché, appunto, l'uomo era portato a vivere concordemente agli altri. Si lavorava insieme, si viveva insieme per il bene comune. A un certo punto, però, secondo Grozio, sono sorti dei problemi. Nello stato di natura, che nasce bene, sorgono dei problemi. Quali problemi? In particolare, i problemi possono essere di varia natura. Possono essere, ad esempio, un calo dei beni. Finché noi viviamo, e c'è cibo per tutti, ad esempio, si sta bene insieme, anche nello stato di natura, ma, ad un certo punto, possono nascere situazioni in cui i beni iniziano a scarseggiare, in cui il cibo inizia a scarseggiare, e questo porta, chiaramente, a problemi, a difficoltà. Oppure, può esserci anche una situazione in cui aumentano i bisogni individuali, in cui questi uomini, che inizialmente avevano pochi bisogni, si accontentavano di poco, stavano bene con poco, a un certo punto, iniziano ad avere più bisogni, a vedere aumentare i loro desideri, e l'aumento dei desideri porta a un aumento dell'avidità, anche inevitabilmente. Questo sarà un discorso che verrà ripreso, lo troveremo in Rousseau, in particolare, che, da questo punto di vista, sarà completamente d'accordo con Grozio. Insomma, si inizia, l'uomo primitivo inizia, vivendo bene insieme agli altri, ma, a un certo punto, inizia anche a sorgere l'egoismo, inizia a sorgere l'avidità, il desiderio di avere di più, e magari anche il desiderio di sopravvivere quando si inizia ad avere il meno, perché per varie circostanze i raccolti vanno male, le risorse possono anche scarseggiare. Questo provoca delle conflittualità, inevitabilmente, secondo Grozio. Nello stato di natura, a un certo punto, nascono dei conflitti, nascono delle lotte, perché le risorse non bastano per tutti, i desideri aumentano, e quindi c'è chi tenta di approfittarsi della situazione, di prendere in mano tutto, o di soggiogare gli altri, pur di avere di più. Quindi, lo stato di natura diventa uno stato pericoloso. Inizialmente era uno stato pacifico, una situazione pacifica e, appunto, idilliaca, ma un po' alla volta i rischi aumentano, i problemi aumentano. Pertanto, secondo Grozio, a un certo punto, gli uomini che vivevano in questo stato di natura hanno deciso, per via razionale, ragionando, che era meglio darsi delle regole più chiare, che era meglio darsi delle leggi, potremmo dire, cioè far nascere lo stato, creare un patto sociale, un contratto esplicito, in un certo senso, che facesse nascere lo stato e che quindi ponesse dei limiti all'agire degli uomini, creasse una polizia, ad esempio, che frena i tentativi di, così, di sopraffare gli altri, creare uno stato, un governo, insomma, creare degli organismi che possano mettere pace in questo stato che sta diventando uno stato pericoloso. Capite? Quindi, gli uomini, di loro iniziativa, razionalmente, mettendosi d'accordo tra loro e constatando che lo stato di natura è diventato pericoloso, decidono di passare a uno stato vero e proprio, di fondare lo stato, firmando un contratto sociale. Un contratto sociale tramite cui decidono anche di alienare, cioè, spostare dal di fuori di essi la sovranità. Se nello stato di natura tutti gli uomini erano uguali e quindi erano sovrani perché erano liberi di fare quello che volevano, adesso decidono di sottomettersi a qualcun altro, cioè, affidano il potere a qualcun altro che lo deve esercitare per il bene comune e io mi impongo di obbedire a questo potere, ovviamente. Quando fermo un patto con gli altri uomini in cui, diciamo, nasce lo stato, poi mi impegno anche ad obbedire a questo stato, ad obbedire alle leggi dello stato e a sottomettermi alle leggi di questo stato. Di fatto, la sovranità, secondo grossio, viene alienata, almeno una parte della sovranità viene alienata dagli uomini allo stato. Sovrano diventa lo stato, non più gli uomini, ok? Però, attenzione, è vero che lo stato diventa sovrano, assume il potere, ma lo stato è comunque, secondo grossio, tenuto a rispettare i diritti naturali. Cioè, io ho firmato un patto, ho alienato da me, alcuni diritti li affido allo stato, ma non tutti. Lo stato può e deve esercitare il potere, ma anch'esso ha dei limiti, non può sopravfare i miei diritti. In particolare, il limite principale è proprio il patto stesso, nel senso che lo stato è tenuto a rispettare il patto, il sovrano è tenuto a rispettare il patto. Il che vuol dire che il re non può, ripeto, non può violare i diritti naturali degli individui, non può violare i diritti che io voglio tenere quando firmo il patto. Quando firmo il patto rinuncio ad alcuni diritti, rinuncio ad alcuni poteri perché mi rendo conto che sono pericolosi, ma altri poteri li voglio tenere per me. Esempio, il diritto alla vita. Il diritto alla vita io voglio che mi rimanga anche nello stato positivo, anche nello stato fondato sul contratto. E in effetti il sovrano questo diritto deve tutelarlo, capite, come altri diritti. Cioè, Grozio parla di contratto, parla di sovranità, parla di un sovrano che esercita dei poteri, dei diritti, ma anche di limiti. Limiti sanciti dal patto, limiti che coincidono con i diritti naturali. Quindi, effettivamente, Grozio è quello che tira un po' le somme di quello che abbiamo detto finora, quello che pone le basi solide di uno stato moderno, di uno stato giusnaturalista, fondato sul tatto, sui diritti, eccetera. ovviamente la cosa da tenere presente che ho tentato di dirvi anche prima ma ve la riparisco in maniera molto chiara è che in questo caso il potere del sovrano è legittimato da un patto ed è fondato sulla ragione umana. Anche prima, anche negli stati precedenti il sovrano aveva un potere e a volte aveva dei limiti questo potere. Ma la grande novità con Grozio è che il potere del sovrano è limitato dal patto, cioè è limitato dagli uomini che firmano il patto e cioè è limitato dalla ragione umana ed è fondato sulla ragione umana. È stata una scelta degli uomini una scelta razionale un calcolo anche potremmo dire razionale degli uomini quello che ha dato origine allo stato quello che ha dato origine al potere del sovrano e quindi il sovrano è tenuto a rispettare la ragione anche in un certo senso deve il suo potere alla ragione umana non più a Dio non siamo più davanti a un potere di natura divina in cui è Dio che ha deciso chi è sovrano e quindi esercita il potere perché è delegato da Dio e quindi deve rendere conto solo a Dio chi esercita il potere lo esercita perché è delegato dalla ragione umana e quindi deve rendere conto alla ragione umana il potere deve essere esercitato razionalmente tenendo conto di tutti i diritti che gli uomini hanno anche in natura come vedete siamo davanti a una mentalità nuova una mentalità che intanto pone le basi dello Stato in maniera razionalmente fondata bisogna fondare lo Stato non più su precetti divini su quello che dice la Bibbia ma sulla ragione quindi c'è una visione molto più laica intanto di tutto il discorso politico ma poi c'è anche una mentalità nuova per cui l'uomo artefice non solo del proprio destino ma anche del proprio Stato della propria situazione delle proprie leggi le leggi anche quando vengono emanate dal sovrano comunque hanno una base che è popolare che è basata su un patto firmato da tutto il popolo si sta avviando a volte in maniera più netta come con Altusius a volte in maniera meno esplicita verso comunque una sovranità popolare che diventerà esplicita nel Settecento si sta avviando verso un potere limitato verso un potere che deve rendere conto a qualcuno o a qualcosa qualcuno è qualcosa che è umano e non divino non deve più rendere conto a Dio deve rendere conto agli uomini al popolo alla ragione a qualcosa di molto concreto e molto umano insomma stiamo andando nettamente verso lo Stato moderno questo è quello che volevo dirvi oggi questo è quello che volevo sottolinearvi in descrizione trovate i capitoletti che sono comparci qui a video mentre parlavo con di fianco il minuto se ci cliccate sopra vi riparte il video da quel momento esatto per poter riascoltare dei pezzi di spiegazione se non li avete capiti se volete ritornarci sopra in più trovate sempre in descrizione tutti i link a video di Locke di Hobbes di Rousseau all'altro video su Giuse naturalismo insomma varie risorse che potrebbero esservi utili e poi trovate le playlist principali di storia e filosofia i link social insomma tanta roba se volete guardarci trovate molti collegamenti molte cose per approfondire per il momento per oggi questo è tutto ci vediamo presto per nuovi video di storia e filosofia educazione civica eccetera ciao alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!